Tre giorni immersi nelle Dolomiti per comprendere il valore del riconoscimento dato dall'UNESCO alle montagne bellunesi. Sono giunti da ogni parte d'Italia i 50 insegnanti operanti in scuole di ogni ordine e indirizzo distribuite tra la Sicilia e il Veneto che hanno preso parte al corso nazionale organizzato a Falcade dal gruppo regionale CAI Veneto assieme ad altre realtà, in collaborazione con la Fondazione Dolomiti UNESCO e la Fondazione Giovanni Angelini. Dopo un pomeriggio di lezioni il corso è proseguito con varie sessioni sul campo, dal sentiero geologico Valle Svenegia alla grande traversata del Mondeval a partire dal Passo Giau, approfittando per una visita ai musei del territorio. La nostra ambizione è quella di portare gli insegnanti a vivere l'esperienza diretta di conoscenza perché a loro volta siano protagonisti di momenti analoghi creati attraverso i loro percorsi formativi, portare gli studenti a contatto con l'ambiente e cercare di far vivere a loro quello che hanno vissuto i formatori perché l'esperienza sia un'esperienza di contatto diretto, di avvicinamento, anche di educazione. Le Dolomiti sì, sono geologia, le Dolomiti sono paesaggio, le Dolomiti sono storia, le Dolomiti sono cultura, le Dolomiti dimostrano come l'uomo fondamentalmente ha interagito, costruito, modificato, però anche imparato a conoscere quello che è un ambiente assolutamente eccezionale. Accompagnati da geologi, paesaggisti, archeologi e botanici, i docenti hanno acquisito le conoscenze specifiche sugli elementi che hanno consentito alle Dolomiti di ottenere il titolo di patrimonio mondiale dell'umanità. Già in questa occasione noi abbiamo potuto coniugare degli approfondimenti, delle conoscenze geologiche a per esempio quelli che sono dei valori storici, culturali diversi. Penso che nelle Dolomiti ci sia qualcosa di sublime, per cui il sublime si ricollega sicuramente al concetto filosofico, al concetto artistico, al concetto letterario.